Sassà Bruno, vorrebbe da dire bello come un gol al novantesimo, ci abbiamo creduto? Ci abbiamo creduto fino alla fine, si sentiva nell'aria comunque che potessimo da un momento all'altro riprendere questa partita. Ci siamo riusciti al novantatresimo, adesso non so bene, quindi secondo me è un pareggio meritato, al di là del gol, delle soddisfazioni personali, credo che oggi abbiamo portato a casa un punto d'oro. Su un campo particolarmente difficile e ghiacciato dove tutti ci volavano? Ma sono sincero, oggi era impossibile giocare, infatti tutti prima della partita pensavamo che non si giocasse, però la scelta dell'arbitro è stata questa e l'abbiamo accettata. Comunque torniamo da Como con un buonissimo punto per iniziare bene il 2016. Ma se andiamo a vedere le ultime partite contro il Como non avevamo mai vinto sia in campionato che in Coppa Italia, così il mister è più contento. Grazie a tutti.